ciao amici volete sapere un segreto insolito per combattere cellulite ritenzione idrica certo che domande bene quello di oggi è facile facile se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video si tratta di introdurre nella dieta un particolare minerale che aiuta a combattere la ritenzione le cause della cellulite e fa sentire più sgonfia e leggere il segreto è il potassio ma che noia guarda che funziona tra i benefici del potassio favorisce l'eliminazione delle scorie dalle cellule per questo ha un effetto drenante molto efficace poi aiuta ad avere più energia e a sentirsi più attivi e positivi che non guasta mai ecco i migliori cibi ricchi di potassio legumi crescione indivia cavolo sedano prezzemolo zucchine ravanelli melone cavolfiore funghi zucca melassa banane cosa faccio mescolo tutto ma no non segui i miei video come dico sempre la soluzione migliore è mangiare tutti questi cibi a rotazione durante la settimana nei diversi pasti così la dieta è completa non ci annoiamo e assumiamo ogni giorno nutrienti sani se volete accelerare i benefici potete bere tanta acqua almeno un litro e mezzo al giorno evitare dolci industriali pieni di zucchero alcolici eccesso di grassi animali e ovviamente fare attività fisica anche moderata ma ogni giorno per vedere tanti altri video come questi basta iscriversi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto mangia sano e dimagrisci ciao 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 ciao